Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di quel taleale eccoci qui di nuovo con formula 2020 e il nostro my team la nostra sportiveggiante pronta per il gran premio di monte carlo signori allora fate le qualifiche e l'altra volta vi avevo chiesto della patch difficoltà eccetera secondo me mi sa che era la spagna che è combaciato un gran premio dove l'intelligenza artificiale forse è un po' più sportiveggiante perché l'abbiamo visto che siamo andati bene con la williams molto bene in realtà monte carlo dove forse effettivamente l'intelligenza artificiale è un po' più lentina ma anche qui con la nostra mitica auto verde siamo riusciti a qualificarci molto ma molto bene sempre tutto uguale stesse difficoltà stesse cose quindi evidentemente si tra un gran premio e l'altro varia tantissimo e il benissimo significa adesso vedrete ma scusi se è a schifo però andiamo a sodo oh eccoci lì signori bene così bene così ci ha dato quasi un secondo anche a tutti gli altri quindi bene così finalmente abbiamo qualche punto in classifica continuiamo così e cerchiamo di concludere anche questa gara fra i primi dieci noi al momento stiamo lottando con valteri bottas qui a monte carlo di solito andiamo giro secco discretamente bene anche in gara in realtà a meno che non ci andiamo ad appiccicare su qualche cartellozzo però cerchiamo di evitarlo eventualmente andiamo a mettere un giro in più perché secondo me ce la possiamo fare non so se può azzardare un altro ma oddio in realtà forse pure sì la mi dice che ci mettiamo più tempo però non lo so prendendo spunto anche poi da quello che si fa la carriera pilota facciamo così facciamo azzardiamo lo so che quello dice che è più lei ma non è vero quello non non intuisce non intuisce azzardiamo un 9.11 aspetta non ho visto la benza metti un po meno benza che qui insomma ok anche non troppo poca voi ragazzi mi raccomando come sempre lasciate like e condividete per supportare serie e canale pronti per questo gran premio con la nostra sportiveggiante prima fila tutta verde mamma mia che livrea che livrea subito modalità sorpasso per evitare che valteri potasci ci venga a sportellare ci sua attenzione vai di grassa anche niente ci ha fregato valteri ha avuto uno spunto estremamente aggressivo guardalo lì come si è insinuato abbiamo fatto del nostro meglio ma in realtà è venuto proprio a darci una spallata lì al primo curvone giro secco siamo andati bene adesso concentrati signori cerchiamo di non perdere per l'appunto la concentrazione esatto Alex che me stai assentiva beh che ci abbiamo la radio però non mi spiare uuuuh donna mia probabilmente abbiamo ancora un pochino le come freschine perché siamo un po' in sofferenza in questa fase lasciamo la miscela grassa vabbè le clerk già se n'è andato ha già praticamente vinto la gara ma va bene noi ce la giochiamo con battery ora tutto sta nel cercare di trovare il nostro ritmo non fare alcun errore qui nel principato dove ogni minima distrazione può essere pericolosissima vecchio vai dobbiamo provare a non perdere il contatto con bottas che è secondo nel mondiale e noi siamo in terza posizione come ho detto ormai vabbè le clerk possiamo anche dire che il mondialone se l'è portato a casa già dopo le prime gare abbiamo visto un po' qual è il suo ritmo noi abbiamo aumentato la difficoltà per poter lottare con le mercedes quindi cerchiamo cioè con le mercedes con gli altri poi in questo caso stiamo lottando con le mercedes questo giro potrei usare il drs questa gara però che è consentito solo nelle zone di rs primo utilizzo del drs ma siamo comunque discretamente lontani attiva la modalità sorpasso e mostra di che pasta sei fatto allora qua come per la spero che sia una gara un po' più cioè una emozione un po' più divertente forse per voi nel senso che quella pilota vabbè qualche taglietto c'è stato perché comunque qua è difficile superare quindi stai lì a girare come se non ci fossero domani certo con la concentrazione a palla quindi giustamente parlo anche magari un pochino meno e quindi magari qualche taglietto quella lo farò per qualche giro magari non è estremamente emozionante non lo so quando ci mettiamo in modalità concentrazione adesso siamo abbastanza vicini a Valtteri non abbiamo fatto il pelo a quella quel muro mettiamoli pressione signori mettiamoli pressione madonna ho sbagliato il tasto così a caso la riserva di carburante in eccedenza si sta esaurendo presto dovrai ridurre i giri del motore sbagliato non ho capito perché sono andato a vedere dietro invece del DRS ma se può fare la cosa di stiamo iniziando a carburare signori le gomme sono in temperatura guarda come le facciamo fumare guarda come inizia a sculettare la Mercedes di Bottas un po' di tensione per lui in accelerazione c'è una nuova strategia disponibile su DMF ho già ammesso che mi fermo due giri dopo quello che mi hai detto tu quindi prendila per buono e via andiamo a vedere dove sguazzardare eh ma comunque qua è tosta qua è tosta per quanto ci possiamo lavorare signori ci possiamo lavorare oppela quando devi dare i muri eventualmente eh la facciamo facciamo sculettare un pochino anche noi la nostra sportiveggiante l'accelerazione si gioca sui piccoli errorini dell'uno dell'altro ci stiamo avvicinando alla finestra del big stop monteremo come mini teniamolo sotto pressione signori vai con l'hersi in salita in realtà pure qua se si riesce è difficile un po' cortino il il discesone uno pure là ci si poteva lanciare aggressivamente ma insomma la Mercedes si difende bene beh mettiamogli un po' di pressione signori ci dobbiamo provare in un modo o nell'altro a farci vedere degli specchietti di battery attrazione signori e ai box attrazione bottas prosegue noi in realtà ci dovremmo cioè ci fermiamo comunque più tardi quindi se riusciamo ad affilare un giro veloce quando rientra bottas insomma non parlando cazzo di è venuto in merda che mi distraggo porca troia però dovevo vedere se avevamo scassato qualcosa torniamo concentrati signori concentrati bravissimo Valtteri che rientra adesso il giro ha lanciato dalla finestra proprio lo lanciamo ok la finestra del pit stop è aperta puoi tornare ai box dai dai il distacco dal tuo compagno di squadra è 11,8 secondi vabbè noi puntiamo a bottas le clerche lascia fare e un attimino inarrivabile la sua velocità con la sportiveggiante qua gioca anche in casa quindi le gomme stanno abbastanza tritate però speriamo di aver fatto un giro abbastanza veloce da spiegare valteri speriamo speriamo signori speriamo di non ritrovarci dietro alla mercedes di bottas speriamo di non perdere neanche di più nel senso è quello lì che lo vediamo nelle curvone dietro di lui dietro di lui le due red bull di ricciardo e o con vai 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 dai che ci se la fa dai che ci se la fa eccolo qui bottas grande così grande così c'è stato madonna mia spero che stia ancora in fase di registrazione perché ho sentito un orco 2 eh mo non ci distraiamo vabbè spero che stia come hai detto registrando ho sentito un salto di audio però ho visto ripopappare la cosa della rec magari non lo so signori però no mi sembra che ci siamo ok non so se è saltato qualcosina comunque eravamo lì lì con il buon falteri e adesso attenzione perché dobbiamo tenere vabbè eravamo in realtà più veloci di bottas anche prima della pit quindi dobbiamo stare attenti perché lui può usare il DRS ma ricordiamoci che al momento stiamo riaccumulando benzina anzi già la possiamo rimettere la grassa quindi andiamocene signori andiamocene adesso con pista libera possiamo sfruttare al meglio la nostra sportiveggiante damoz e piano 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 ocio star tranquilli dobbiamo dargli almeno un secondo in realtà anche di più però non fargli utilizzare almeno il DRS qua guadagniamo molto e guadagnavamo molto anche prima quindi guarda qua come squiscia guarda come squiscia io ahie 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 secondo che l'abbiamo dato ok vedi come ti facciamo anche l'ultimo stim fucsia una volta che non abbiamo chi ci rallenta qui a amotecarlo che può tornare dopo tanto una doppietta sportiveggiante mettiamo le mani avanti che siamo a metà gara un po' un po' di più ma mai dire mai rimanere concentrati e non fare errori tenere un buon ritmo per tenere dietro vatteri però abbiamo visto che qui a Monte Carlo ce la possiamo fare ce la possiamo fare stiamo abbastanza concentrati basta distrarsi un attimo abbiamo visto anche una carriera primosa qualche piccana distrazione potrebbe essere pericolosa vabbè signori io mi metto in modalità concentration devo tra qualche giro se non ci sono altre emozioni abbiamo distaccato il buon battery bottas quando ci mette in modalità concentrazione si è un macello più che altro siamo riusciti a mantenere un buon ritmo è praticamente vuoto c'è carburante per meno di un giro eh vabbè adesso ho rimesso la standard prima abbiamo sfruttato la la grassa in realtà bottas è riuscito a rimanere sempre intorno al secondo fino a quando non ho riaccumulato un po' di miscela grassa cioè ci è stato incollato per un altro tre barra due tre giri insomma poi ho rimesso la grassa e siamo riusciti con la grassa ottenere un maggior distacco perché altrimenti prima era un po' più tirata tanto va a vincere il nostro compagno di scuderia con netto vantaggio però onesto ci sta è l'auto è l'auto che ha una preputenza inaudita e questo ci ha aiutato anche a noi per questo secondo posto qui a Monte Carlo doppietta per la sportiveggiante bene così bene così ok no la registrazione c'è ottimo ottimo c'è stato quel momento di panico all'uscita del boxing il momento più bello diciamo più emozionante della gara vabbè comunque ce l'abbiamo ce l'abbiamo dai dai vediamo questo podio guardali con quale leggiadria sponsor scritti un po' così a caso sulla tutona ma va bene così va bene così olè vabbè Leclerc vince a casa sua casa sua un principato un po' nuvoloso qui siamo andati più veloci ha dato solo due decimi e mezzo chi è stato il migliore in pista per te oggi è stata una giornata interessante ma conti fatti devo scegliere Alexander Albon prestazione noi siamo ancora terzi a meno uno da Bottas vediamo come si presenta ora la classifica del campionato costruttori il team del pilota proprietario passa in testa la classifica c'eravamo già dai e va andiamo avanti anche se questa probabilmente ci romperà i maroni come sempre puoi dirlo forte si si macchina informissima che ne sai signor vale per tutto il team ma è inutile che cerchi di buttare benzina sul fuoco si e con tutto il reparto del telaio quelli dell'aerodinamica del motore della resistenza non li invitiamo quelli del telaio ce li portiamo solo noi io le clerk e quelli del telaio e basta e che cos'è comunque signori noi ci vediamo con il prossimo appuntamento con formula 2020 mi raccomando voi come sempre lasciate like e condividete per supportare serie e canale il denaro non lo possiamo usare buono forse non hai capito che non abbiamo più altro da fare questo è questo è quindi questo è quanto ci vediamo come detto alla prossima voi lasciate like condividete seguitemi sull'altro sito per le live sul secondo canale senza problemi verranno montati sulla macchina in tempo per la prossima sessione vabbè ah no forse perché poi i reparti li abbiamo aperti per il semplice fatto che potrebbero arrivare quelle tacchettine a livello motore e resistenza perché poi alla fine era tutto livellato quindi va bene alla prossima ragazzuoli dai ci vediamo saluto a tutti da quel taleale